Nell'incontro di oggi stiamo parlando di comunicazione e formazione, quelle che noi riteniamo essere le carte vincenti per lo sviluppo sia dell'attività professionale che di l'impresa. La formazione è sicuramente una delle carte vincenti che i consulenti del lavoro e le aziende devono sfruttare. In Italia non c'è una cultura della formazione, ci stiamo lavorando e soprattutto stiamo cercando di mettere a disposizione degli strumenti per organizzare corsi e formazione gratuiti per le aziende e per il consulente del lavoro.